Nel rispetto della tradizione Alfa Romeo Un mito per la città di Trieste, che presta i suoi servizi da 28 anni e che vanta nel suo personale un'esperienza di oltre 50 anni con la Casa del Biscione. Un'organizzazione per la vendita delle vetture del marchio Alfa Romeo, che è capace di offrire la massima trasparenza nelle informazioni tecniche e nelle trattative commerciali con le giuste soluzioni alle attese del cliente. Un servizio dinamico, massima disponibilità verso il cliente, il personale e l'attrezzatura in continuo aggiornamento, ci consentono di operare con la nostra officina per interventi in garanzia, nelle manutenzioni programmate e in tutte le riparazioni necessarie su ogni parte dell'autovettura. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS